La modifica dello statuto della Regione Toscana è in apertura della nuova seduta del Consiglio regionale. Non c'è l'illustrazione in aula motivo di critiche da parte delle forze di opposizione, così pure l'assenza del Presidente della Regione impegnato a Bruxelles. Il testo modificato rispetto alla proposta iniziale avanzata dalla Giunta prevede la figura del sottosegretario alla Presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali e l'allargamento a sette membri, oggi sono cinque, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La prima deliberazione, la seconda ci sarà tra due mesi, arriva con ampia maggioranza, 30 sì, PD, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Il no di Italia viva e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto scelto tra i consiglieri quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità e su questo c'è stata un'ampia convergenza come abbiamo visto in Consiglio. Per cui dopo diversi mesi che questa proposta giaceva lì senza essere trattata siamo arrivati alla prima approvazione perché poi dovrà esserci la seconda lettura che ritengo possa comunque dare un contributo per poter lavorare meglio nell'ambito dell'esecutivo e avendo trovato anche una condivisione perché uno degli obiettivi era quello di non aumentare i costi cosa che abbiamo fatto e rispettato con l'approvazione della proposta scaturita da emendamenti che il Partito Democratico ha presentato alla soluzione originaria che era stata inoltrata al Consiglio. Dalla maggioranza arriva l'unico nuovo alla modifica è quello di Italia Viva. Inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana dopo 15 modifiche dello Statuto si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma che noi abbiamo contestato dall'inizio che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Non ci siamo candidati un anno fa esclusivamente sapendo che si eleggeva un Presidente che poteva nominare 8 assessori, 40 erano consiglieri, queste erano le regole di ingaggio, quindi noi siamo rimasti fedeli all'impegno presi con i cittadini toscani. Io sono orgoglioso di essere stato l'unico a aver votato contro questo Statuto nel rispetto degli impegni assunti un anno fa. La figura del sottosegretario così fatta non serve, dice Italia Viva. Noi abbiamo proposto due cose, che il sottosegretario qualora si volesse istituire fosse esterno, avesse un meccanismo di indipendenza perché ci deve essere la separazione dei poteri tra potere legislativo e potere di governo, come avviene in Parlamento, fra Governo e Parlamento, fra Giunta e Consiglio c'è una separazione netta perché la nostra è una Regione che come di fatto avviene rispetto al sistema elettorale è una funzione di carattere presidenziale. E poi abbiamo chiesto una cosa importante, la parità di genere. Tutti ne parlano, tutti ne parlano, tutte le forze politiche mettono il tema della parità di genere e poi è solamente Italia Viva che fa la battaglia per la parità di genere. Nessuna conseguenza però per la maggioranza secondo Italia Viva e il capogruppo dell'EPD legge così il voto in aula. Direi che c'è stata una fisiologica discussione con qualche contrattempo come avviene di solito quando si discutono cose di questa rilevanza, però mi sembra che poi il risultato del voto che ha visto approvare tutta questa soluzione con 30 voti favorevoli e non solo contrario ci dice che l'obiettivo di trovare una vasta convergenza come si deve cercare di fare, lo ripeto ancora una volta quando si vanno a cambiare le regole, è riuscita. Le opposizioni di centro-destra dicono sì alla modifica ma parlano di un dibattito surreale, quello visto in Consiglio regionale. Perché abbiamo visto una modifica dello statuto proposta dal Presidente della Giunta e il Presidente della Giunta era assente. Il Presidente della prima commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una proposta da affossare. Il Vice Presidente del Consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa legge ha subito un percorso anomalo. Quindi queste sono le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in aula. Per quanto mi riguarda, noi come Fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo, che le modifiche venissero fatte nell'interesse, primo, del Consiglio regionale e l'allargamento dell'ufficio di Presidenza sicuramente è in questa direzione, cioè tutela maggiormente il Consiglio, due a costo zero. Le reforme sono state fatte a costo zero senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani e questo è l'obiettivo conseguito. Fa sottolineato però, perché è doveroso farlo, che se ieri il Consiglio non avesse emendato la proposta del Presidente Gianni, il Presidente Gianni aveva proposto di istituire due poltrone in più a quelle già esistenti a 7.500 euro l'una. E credo che in questo periodo storico sia una cosa indegna anche solo averle apprensate. Noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio, quando ci era stato proposto, nove assessori e due sottosegretari esterni, che non era la riforma che serviva alla Regione Toscana semplicemente perché avrebbe aumentato i costi. Abbiamo detto sì a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio, alla Giunta di lavorare meglio, a patto che non vi fosse aumento di costi. Ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello Statuto che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore, e sì all'allargamento dell'Ufficio di Presidenza, perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'Ufficio di Presidenza di tutte le forze politiche, naturalmente senza aumento di costo. Questo nuovo modello organizzativo consentirà alla Regione Toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente, più efficace, di lavorare meglio, e questo significa soddisfare le esigenze dei toscani. Per questo, come Forza Italia, abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello Statuto e ci ha anche un po' sorpreso il dibattito di questi mesi all'interno di tutti i giornali, dove c'erano consiglieri regionali di maggioranza che dichiaravano che la riforma avrebbe aumentato i costi, che i sottosegretari costavano di più, forse semplicemente perché quella riforma non riguardava loro stessi, forse semplicemente perché abolendo il non-assessore qualcuno che aveva l'ambizione di fare l'assessore oggi non la fa più. Ma c'è da dire che il testo da come usciva di giunta è stato totalmente stravolto. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non-assessore, né due sottosegretari esterni perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile, quindi l'abbiamo detto da subito e effettivamente il PD, il Consiglio regionale, è venuto sulle posizioni che noi dicevamo, quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno, a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza, dando poi la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa, ed è anche questo senza costi aggiuntivi. E quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla giunta. Certo quello che c'è da evidenziare è che in maggioranza non possono dire lo stesso, qualche problema l'hanno avuto. Abbiamo visto il Presidente di Commissione, che poi era quello che doveva fare il non-assessore all'inizio della legislatura, andarsene arrabbiato decidendo di non votare. Abbiamo visto Italia Viva che si è spaccata e che ha riproposto di nuovo i due sottosegretari esterni, quindi con un costo che sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Quindi la maggioranza non può star proprio serena, anche perché mi sembra di capire che la giunta abbia portato un testo di cui Gianni era molto convinto, che infatti non è nemmeno stato illustrato in aula, ma che poi il Consiglio glielo abbia stravolto. Io spero che la giunta abbia capito che il potere legislativo spetta il Consiglio e che alcune proposte forse è meglio discuterle prima con i consiglieri. Netta invece l'opposizione a questa modifica da parte del Movimento 5 Stelle, che decide di non partecipare al voto. In uno dei momenti più difficili della storia della Toscana, dalla sua nascita dal 1970, assistiamo a un dibattito surreale, fuori tempo e soprattutto irricevibile riguardo l'aumento del poltrone, perché di questo di fatto si tratta, sottosegretari, ufficio di presidenza, tutti aspetti che se già normalmente indignerebbero probabilmente i cittadini, perché ci si aspetta che il parlamentino toscano e la giunta, gli amministratori, si occupino di altro, in questo momento scandalizza particolarmente. Nel pieno di un momento in cui l'intera sanità si sta rivoltando contro la giunta per i tagli che sono stati fatti e per la situazione drammatica in cui si lavora, questo Consiglio sta lavorando a un aumento dei sottosegretari, a detta loro invarianza di costi, e degli uffici di presidenza, di cui francamente non se ne avverte il bisogno. E per fare tutto questo si è sottratto un anno di lavoro, probabilmente a tante cose ben più urgenti. Le scuole, la mancanza continua di aule, i problemi della sanità, i problemi infrastrutturali, molti altri problemi. E cosa più grave di tutte, per la prima volta, dal 1970, una riforma statutaria non viene presentata dal suo proponente, dal Presidente della Giunta, che oggi si trova per altri affari a Bruxelles, e viene difesa dalla sua maggioranza in Consiglio. Noi usciremo dall'aula al momento del voto, perché qualunque cosa venga votato per i toscani in questo momento, non avrà il nostro nome, non avrà il nostro volto. Alla fine della lunga giornata a tracciare il bilancio di questa discussione è il Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo. Io sono davvero contento, nel senso che mi ero posto un obiettivo. L'obiettivo era larga condivisione, perché le regole del gioco non si cambiano solo con la maggioranza, e che non ci fossero aumenti di costo della politica. Ecco, abbiamo raggiunto entrambi i risultati. È vero, c'è stato qualche problema interno alla maggioranza. Io penso alla proposta del collega Scaramelli. Non potesse essere accettata quella del sottosegretario esterno per un solo motivo, perché provocava un aumento di costi. E siccome la strada era un'altra, con fatica abbiamo cercato in queste settimane di arrivare a un punto di sintesi politica la più larga possibile. Questo punto di sintesi è frutto di un accordo istituzionale, lo voglio risottolineare, istituzionale, tra tutte le forze, quasi tutte le forze politiche, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Il mio compito è di garantire che le regole vengano rispettate e che il Consiglio funzioni nella maniera migliore possibile. Il sottosegretario è una risposta che noi diamo ai cittadini della Toscana. E non è chi sarà domani il sottosegretario. A me questo interessa il giusto. A me interessa che ci sia una figura che possa sostenere la Giunta, soprattutto sui temi, quelli più caldi, ora penso ai temi dei fondi strutturali, penso ai temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo la necessità di dare risposte ai cittadini e serviva un'organizzazione ancora migliore. Esattamente come per l'Ufficio di Presidenza, dove io penso che sia giusto che tutte le forze politiche, o quasi tutte o più forze politiche, siano rappresentate. Quella è una sorta di piccola giunta del Consiglio e a me fa piacere ascoltare il parere di tutti per decidere, come ho fatto sempre in questo anno di mandato, cercando la più ampia condivisione possibile. Attivare una fiscalità di vantaggio per le aree interne al fine di combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro, soprattutto ai giovani. Questo è l'obiettivo della proposta di risoluzione presentata dalla Commissione per le aree interne e approvata all'unanimità dall'Aula. Il testo impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti di Governo e Parlamento per fare in modo che siano inserite specifiche agevolazioni fiscali nella compressa riorganizzazione del fisco nazionale. Noi sappiamo che chi apre un ristorante o un'attività in un territorio montano deve sostenere molti più costi, ma paga le stesse tasse di un'attività nel centro, di un centro città. C'è uno svantaggio competitivo e deve essere però anche noi la consapevolezza e queste attività hanno anche un valore sociale importante. È una richiesta questa che noi vogliamo fare al Governo assieme alle altre regioni, però ora è arrivato il momento e è arrivato il momento che le aree interne appunto vengano fatte oggetto di un intervento che ne contrasterebbe sicuramente lo spopolamento. Noi parliamo spesso dei servizi, ma i servizi si garantiscono solo se c'è non spopolamento, ma se c'è presenza delle persone su un territorio e quindi creare le condizioni anche dal punto di vista fiscale per sostenere le attività produttive, noi ci dicono non solo gli esperti, ma anche gli amministratori locali, è essenziale. Da oggi inizia la battaglia della Toscana per chiedere in sede nazionale di introdurre questo principio che c'è in alcune regioni a statuto speciale. Gli sgravi fiscali sono importanti in queste zone, nelle aree interne, aree insulari, nei comuni di montagna, perché qui ci sono delle attività che rischiano di chiudere e invece noi bisogna tenerle aperte. Parlo di bar, ristoranti, attività produttive, attività artigianali, in particolare in montagna, le attività che riguardano i lavori nel bosco, perché sono anche queste attività presidi per il territorio e quindi in queste zone dove è difficile vivere, lavorare, studiare, a volte è difficile curarsi e anche le infrastrutture sono spesso carenti, bisogna attuare questa fiscalità di vantaggio. È un atto importante, le aree interne sono quelle che in questo momento più di altre stanno soffrendo, quindi bene il lavoro fatto dalla Commissione per cercare di dare una misura fiscale a favore di quei territori, molte volte periferici, non solo montani, ma anche collinari, ma lontani dalle grandi città che più di altri faticano a trovare livelli di competitività. C'è un atto, ed è evidente dai dati che abbiamo in mano, di spopolamento oggettivo delle periferie urbane, non di quelle collegate alle città, ma delle realtà rurali, che invece potrebbe andare in controtendenza se rendono, diciamo, incentivanti la possibilità di andare a vivere in quei territori. Andandoci a vivere, quei territori hanno bisogno di servizi nuovi e aggiuntivi. Se non ci sarà questa inversione di tendenza, è evidente che la Toscana viaggerà a due velocità. È la strada giusta, sinceramente, la montagna ha partorito il topolino, nel senso che quella proposta di risoluzione invita il Parlamento a pensare a sgravi fiscali per le aree interne. Io penso che un organo legislativo, qual è il Consiglio regionale, avrebbe potuto fare molto di più, soprattutto impegnare se stesso a fare delle iniziative in quel senso. pensiamo, per esempio, a una tassa di ambito regionale, il bollo auto, il bollo per i mezzi di trasporto. Se avessimo immaginato di sospendere il pagamento del bollo auto per tutti quei mezzi commerciali delle partite IVA che hanno sede legale nelle aree interne, avremmo fatto una cosa sensata e con un'efficacia diretta. Invece così si è invitato a qualche di un altro a fare qualche cos'altro. È il solito giochino del rimandare la palla in calcio d'angolo. Sicuramente la strada giusta, sicuramente la regione può intervenire direttamente per anche agevolare la pressione, abbassare la pressione fiscale. È sicuramente un passaggio in avanti nei confronti delle aree interne che sono penalizzate per una serie di motivi infrastrutturali, di servizi, di beni di prima necessità che da sempre diciamo hanno le aree interne ma non solo in particolare anche alle isole hanno. Si può dire che la Toscana è ovunque bella un slogan coniato nella precedente legislatura ma deve essere anche ovunque vivibile perché i toscani vogliono continuare a abitare interamente la loro regione ma devono essere messi in condizione di farlo. M Geezo Grazie a tutti.